Il complice che lo seguiva con il furgone è riuscito a scappare ma lui, il ladro che cercava di rubare dal treno merci in corsa, è finito in manette. Tentato furto aggravato in concorso, resistenza e possesso ingiustificato di un coltello sono i reati contestati al 37enne Moldavo arrestato la scorsa notte dai carabinieri a Villa Dossola. I militari erano stati allertati perché un residente del Cusio, dalla finestra, aveva visto un uomo... Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.